Benvenuti su Vite Memorabili Official. Iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere nessuna delle storie incredibili che vi raccontiamo. Oggi vi portiamo nella straordinaria, affascinante e misteriosa vita di una leggenda, Michael Jackson. Preparatevi a un viaggio tra luci e ombre, successi stratosferici e segreti mai svelati. Chi era veramente il re del pop? Quali verità nascondeva dietro la sua immagine scintillante? Scopriamolo insieme. Capitolo 1. L'inizio di un sogno. Tutto ebbe inizio il 29 agosto 1958 a Gary, Indiana. Un bambino di nome Michael Joseph Jackson nacque in una famiglia numerosa e talentuosa. Fin da piccolo, Michael mostrò un talento straordinario, diventando presto il cuore pulsante Day Jackson 5. Con i suoi fratelli, Michael raggiunse rapidamente il successo, dominando le classifiche con canzoni come I Want You Back e I Be See. Il talento di Michael non passava inosservato. Il suo carisma sul palco, la sua voce unica e le sue doti di ballerino lo resero subito una star. Ma mentre il mondo lo vedeva brillare, dietro le quinte si nascondeva una realtà ben diversa. La pressione della fama precoce e un padre severo e spesso violento segnarono profondamente l'infanzia di Michael. Joseph Jackson, il patriarca della famiglia, era un uomo dalle grandi ambizioni per i suoi figli. Tuttavia, i metodi utilizzati per raggiungere il successo erano duri e spietati. Le testimonianze di Michael e dei suoi fratelli parlano di disciplina ferrea e punizioni severe. Questi momenti hanno plasmato non solo l'artista, ma anche l'uomo dietro il microfono. Capitolo 2. La scalata al successo Con il passare degli anni, Michael iniziò la sua carriera da solista, rivoluzionando il mondo della musica con album leggendari come Off the Wall, Thriller e Bad. Off the Wall mostrò al mondo la sua capacità di fondere vari generi musicali, ma fu con Thriller che raggiunse l'apice del successo. Thriller non solo divenne l'album più venduto di tutti i tempi, ma ridefinì anche l'industria musicale con i suoi video innovativi e coreografie indimenticabili. Ricordate la prima volta che avete visto il video di Thriller, con i suoi effetti speciali, la regia cinematografica e la danza dei zombie, Michael trasformò un semplice video musicale in un'opera d'arte. Billie Jean e Beat It seguirono, cementando la sua posizione come innovatore e leader dell'industria, ma mentre il suo successo cresceva, cresceva anche l'interesse per la sua vita privata. Chi era davvero Michael Jackson dietro le luci della ribalta? Il successo di Michael era inarrestabile. Premi, riconoscimenti e record infranti erano all'ordine del giorno, ma con la fama arrivarono anche le prime critiche e curiosità morbose sulla sua vita privata. Ogni passo, ogni scelta veniva scrutinata e discussa. Come affrontava Michael questa pressione costante? Capitolo 3. Il re del pop e le ombre Michael Jackson non era solo una star, ma un enigma. Le sue eccentricità, le sue trasformazioni fisiche e le sue scelte di vita suscitavano curiosità e speculazioni. L'evoluzione del suo aspetto, dal giovane afroamericano al volto sempre più pallido e alterato, alimentò innumerevoli voci e teorie. Affetto da vitiligine, Michael cercò di spiegare i cambiamenti al pubblico, ma non tutti furono convinti. Qual era il vero Michael dietro la maschera pubblica? Il cambiamento fisico di Michael Jackson fu uno dei punti più discussi della sua vita. La vitiligine, una malattia della pelle che causa la perdita di pigmentazione, fu la spiegazione data da Michael per il suo cambiamento di colore. Tuttavia, le continue operazioni di chirurgia plastica, la trasformazione del suo naso e altre modifiche estetiche sollevarono molte domande. Era la pressione della fama a spingerlo a tali estremi o c'era qualcosa di più profondo dietro queste scelte? Gli amici e i collaboratori di Michael raccontano di un uomo estremamente insicuro, che cercava costantemente di migliorare se stesso per rispondere alle aspettative del pubblico e dei media. Le sue insicurezze e le sue lotte interne erano spesso nascoste dietro una maschera di perfezione. Quanto hanno influenzato queste insicurezze le sue scelte estetiche e personali? Capitolo 4. Le accuse e le controversie Negli anni 90 e 2000, la vita di Michael fu sconvolta da accuse che fecero il giro del mondo. Le accuse di abuso sessuale su minori portarono Michael in tribunale e il processo fu seguito da milioni di persone. Sebbene fu assolto da tutte le accuse nel 2005, la sua immagine pubblica ne uscì profondamente danneggiata. Ma le domande rimangono. Chi era davvero Michael Jackson? Un uomo vittima delle sue stesse paranoie o un genio incompreso? Il processo del 2005 fu un evento mediatico senza precedenti. Giornalisti da tutto il mondo seguivano ogni dettaglio, ogni testimonianza. Michael Jackson si dichiarò sempre innocente e molti testimoniarono a suo favore, descrivendolo come un uomo generoso e innocuo. Ma le ombre delle accuse continuarono a perseguitarlo, lasciando una macchia indelebile sulla sua carriera. Durante il processo Michael appariva spesso fragile e stressato. Le telecamere catturavano momenti di evidente sofferenza e angoscia. Era il peso delle accuse o la paura di perdere tutto ciò per cui aveva lavorato così duramente. Questa domanda rimane ancora senza risposta. Capitolo 5. L'uomo dietro la leggenda Nonostante tutto, chi ha conosciuto Michael da vicino lo descriveva come un'anima gentile, un uomo con una passione ineguagliabile per la musica e un desiderio ardente di migliorare il mondo. La sua generosità, i suoi progetti di beneficenza e il suo amore per i bambini erano noti a tutti. Ma queste stesse qualità, unite alla sua natura introversa e alle sue insicurezze, lo rendevano un bersaglio facile per critiche e malintesi. Dietro il re del pop c'era un uomo che lottava con le sue insicurezze e con un'infanzia rubata. Michael Jackson era anche un padre devoto che cercava di proteggere i suoi figli dalle stesse pressioni che lui aveva subito. La sua vita personale, spesso nascosta agli occhi del pubblico, rivela un uomo complesso e sensibile. Quanto di questa vita rimarrà un mistero per sempre? Le testimonianze di amici e collaboratori rivelano un Michael Jackson appassionato di arte, letteratura e filantropia. Era un uomo che cercava di lasciare un'impronta positiva nel mondo, nonostante le sfide personali e le controversie che lo circondavano. Capitolo 6. L'eredità di Michael La morte improvvisa di Michael Jackson, il 25 giugno 2009, sconvolse il mondo. Lasciò un vuoto incolmabile, ma anche un'eredità artistica immortale. La sua musica continua a ispirare milioni di persone e la sua figura rimane una delle più complesse e affascinanti del nostro tempo. Tributi, concerti in sua memoria e l'influenza continua sui nuovi artisti testimoniano l'impatto duraturo del re del pop. Michael Jackson ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica e della cultura pop. La sua eredità è viva nelle generazioni che continuano a ballare e cantare le sue canzoni. Ma quali altri segreti ci riserverà il futuro sulla sua vita? Rimanete con noi su Vite Memorabili Official, dove continuiamo a esplorare le vite dei grandi del passato, sempre con una domanda in mente. Cosa c'è dietro la leggenda? Grazie per averci seguito in questo viaggio attraverso la vita di Michael Jackson. Siamo sempre alla ricerca delle vite più affascinanti da raccontare. Se avete suggerimenti o storie che vorreste vedere, lasciate un commento qui sotto. E ricordate, dietro ogni grande leggenda c'è una vita memorabile. Non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere le prossime storie di Vite Memorabili Official. Continuate a seguirci per altre storie emozionanti di persone che hanno lasciato un segno nel nostro cuore e nella nostra cultura.